e ciao a tutti amici sono sempre io gold e benvenuti all'appuntamento settimanale con l'orica tech please rieccoci su space engine con un altro mod spotlight sebbene oggi non andremo a recensire una mod ma bensì un'altra creazione del workshop in questo caso sto parlando del razorback che tradotto in italiano sostanzialmente è un mezzo d'artiglieria mobile diciamo così sebbene spari delle bombe a grappolo allora ho visto il veicolo ed è semplicissimo dico nella sua configurazione tutto ovviamente il sistema con i pistoni qua con il quale lancia i missili è decisamente complesso ma è stabile ed è questo quello che che contano insomma è un veicolo e ha un sistema di pistoni e rotori stabile wow dio è una cosa devastante sostanzialmente quello che vedete qua è un missile a grappolo perché no qua dentro non ci sono testate questa cosa qua non esplode ma bensì spara a questi container che al loro interno hanno pietre rompendosi fanno cadere queste pietre queste pietre fanno un danno della madonna questo è sostanzialmente il funzionamento che c'è alla base del razorback adesso vi faccio vedere come vedete qua abbiamo delle pietre oddio ah ecco appunto no sono più o meno in tutti i container magari sono sparse diversamente però insomma è quello lì sostanzialmente il funzionamento allora parliamo un attimo del veicolo prima di parlare dell'arma in sé è un normalissimo camion fatto molto bene comunque come vedete qua abbiamo sospensioni ruote che sono state regolate alla meglio purtroppo ragazzotti come sapete le ruote sono ancora un po' un problema su space engineer e appunto nella descrizione della mod c'è scritto che questo questo veicolo non sterza particolarmente bene e purtroppo l'ho visto ed è vero ma assolutamente ha tantissimo da offrire e appunto adesso vi faccio vedere allora vabbè tolto il design che è molto bello stile militare davvero fatto bene abbiamo un cockpit che è praticamente sommerso dall'armatura poi abbiamo qua davanti a noi tutti i comandi per capire bene come funziona il razorback e appunto qua ci spiega vabbè nella prima pagina davanti a noi l'LCD davanti a noi ci spiega la prima pagina abbastanza semplice e la seconda pagina che ci spiega più o meno come utilizzare l'arma che abbiamo dietro ovviamente con le informazioni per scegliere bene il bersaglio allora il camion può sparare da una distanza minima di 1000 metri cioè un chilometro fino a 2 chilometri 2000 metri con uno scarto di circa dai 2 ai 5 metri adesso vi sto citando la descrizione e appunto qua come vedete ci sono tutte le informazioni per farci settare al meglio l'arma appunto detto questo ragazzotti il camion è abbastanza semplice cioè alla fine ci offre relativamente poco come veicolo ma è più proprio un veicolo pensato per l'azione militare e assolutamente fidatevi ragazzotti perché è davvero davvero bello ora dato che c'è relativamente poco da dire per quanto riguarda il design che l'abbiamo già detto è davvero bello e alle funzionalità del camion stesso parliamo un attimo dell'arma allora entriamo e seguiamo semplicemente i comandi quindi andiamo sulla prima pagina sul numero 1 abbiamo il freno a mano abbastanza semplice numero 2 abbiamo le luci le teniamo accese ma non cambia nulla numero 3 abbiamo adesso aspettate che mi metto con la flycam abbiamo il sistema di sollevamento e abbassamento delle armi e wow wow guardate qua questa azione che cosa non è ok fino qua va bene dai sono solo dei pistoni anche se sono spettacolari va bene comunque le abbiamo alzate torniamo al cockpit col 4 spariamo il missile di sinistra col 5 spariamo quello centrale col 6 spariamo quello a destra nessun problema col 7 accendiamo la torretta poi abbiamo invece i comandi manuali che sostanzialmente ci danno la possibilità di personalizzare la traiettoria del razzo ovviamente noi in questo caso non andremo a toccare questi comandi ma al massimo andremo a modificare le impostazioni che ci sono qua sulla sinistra sulla lcd di sinistra cioè l'arco e lo spin che credo sia l'avvitamento ovviamente noi adesso spariamo come vedete laggiù a mille metri abbiamo un bersaglio che è una nostra vecchia conoscenza quindi mi metto in posizione e proviamo a sparare vi dico che ancora non ho provato questo sistema di sgancio appunto ma ho provato soltanto il camion giusto perché volevo provarlo con voi quindi siamo in posizione andiamo dal nostro bersaglio ok allora ragazzotti siamo in posizione quindi proviamo a sparare faccio partire quello centrale voglio vedere com'è dovrebbe essere partito eccolo ragazzotti ci siamo sta arrivando oh mio dio si è aperto e no cioè non ci credo è bellissimo anche se ha mancato di poco ha mancato di poco è vero ma wow quindi spostiamo leggermente più indietro il camion ok ci siamo spariamo il missile di sinistra sta arrivando probabilmente è leggermente fuori traiettoria ok si è aperto oh mio dio lo colpirà lo colpirà oh l'ha colpito e come wow oh mio dio ok allora l'ha colpito mi aspettavo sinceramente più danni ma probabilmente no ne ha fatti alcuni in giro guardiamo un attimo le condizioni del razzo finale dove vai? dove stai andando? non credo comunque che questa sia completamente la sua potenzialità va bene allora questo qua ha colpito era leggermente fuori asse quindi cerco di correggere per quello di destra voglio fare un colpo precisissimo allora ok ragazzotti ci siamo spariamo il razzo di destra wow la partenza è spettacolare ve lo devo dire no c'è il sole che sta sorgendo non si vede nulla probabilmente no completamente tirato malissimo se rimbalzassero contro delle strutture farebbero decisamente molti più danni quindi io adesso non mi do per vinto assolutamente e tentiamo ancora tentiamo di fare ancora più danni ok allora immaginate di non aver solo un veicolo e di non aver neanche solo un bersaglio piccolo quindi adesso termineremo con un bellissimo test ok ragazzotti ci siamo andiamo con la prima scarica facciamo li facciamo tutti e tre insieme dai 5 6 4 andiamo subito a vedere stanno arrivando? stanno arrivando e come? oh mio dio tra poco ci dovrebbero aprire eccoli là si stanno aprendo oh mio dio faranno tanti danni oh oddio oddio ho rotto tutto wow 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 e questo qua ragazzo tira solo uno oh mio dio va bene va bene non facciamoci prendere dal panico e andiamo con gli altri oh mio dio è devastante 4 5 6 via sono partiti questi colpiranno circa al centro più o meno ok si stanno aprendo wow è una bellezza è una bellezza vederlo quando si aprono oh mio dio oh è qualcosa di di distruttivo al massimo cioè all'ennesima potenza della distruzione guardate che buchi fa questo missile assolutamente questa era una torre di controllo ed è praticamente squarciata oh mio dio ragazzotti è devastante ok va bene testiamo l'ultimo guardiamoli che arrivano no non lo colpiranno o forse o forse si o forse si ah è probabile che si siano aperti troppo presto che peccato ma forse il rimbalzo già potrebbe prendere oh mio dio anche il rimbalzo fa male wow wow davvero oddio sta crollando sta cadendo il razzo non sta cadendo ma l'hanno destabilizzato niente ragazzotti vederlo in azione è qualcosa di devastante io adoro questo razorback l'unica pecca è praticamente quando finite i razzi perché non potete non potete ricaricarlo e questo è un piccolo problema ma assolutamente ne vale la pena io ragazzotti vi ringrazio per avermi seguito vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate di questo veicolo io lo trovo particolarmente devastante davvero un'arma distruttiva al massimo io termino qua questo episodio vi ringrazio ancora per la visione sono Gold e noi ci vediamo al prossimo video bye bye